Buongiorno a tutti, sono Andrea Pianca e sono il direttore venite per l'Italia di Lago Group. Il progetto Merenda di Gastone ha trovato di fatto concretezza nel mese di marzo sul territorio italiano. Abbiamo lanciato due nuove referenze, Pan Brioche e Golosa e Cacao, unitamente tutta la linea Ciambelle e Crostatine. Devo dire che grazie all'iniziativa Giro d'Italia e al nuovo packaging le referenze stanno trovando grandissima soddisfazione sul mercato. I clienti stanno inserendo progressivamente tutta la linea e sono entusiasti dei primi dati di sell out. Grazie a tutti.